eccomi 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 buonasera amici amiche rosso neri ragazzuoli ragazzuole belle buona serata di questo lunedì 18 marzo 2024 ore 18 28 ore 6 28 della sera e buon martedì 19 marzo auguri a tutti i papà vi mando un abbraccio a tutti mio papà a tutti i vostri papà ragazzi e ragazzuole cosa vi voglio cosa vi voglio dire voglio dire una cosa semplice allora partiamo sempre dalle notizie che ruotano intorno al nostro mina la procura di milano ha inviato i documenti 12 pagine sulla richiesta di indagini nei confronti del milan sulla perquisizione che è avvenuta con fronte mia ha inviato solo queste 12 pagine perché perché altri documenti non sono stati inviati visto che ci sono ancora le indagini in corso sui telefoni e sui computer dei nostri dirigenti per cui ragazzi stiamo molto ben calmi io per la prima volta devo dire la verità per la prima volta dopo tanto tempo ma solo per questa volta penso sono d'accordo sulle parole che per due volte ha pronunciato due concetti che oggi ha pronunciato Matteo Salvini il primo concetto è che quando un popolo va a votare riferito alla russia è cosa buona e giusta e ha sempre ragione ecco su questo ci siamo adesso lo dico in altri termini due ragazzi io dico quello che ha detto Salvini oggi due Salvini spera che la procura di milano si basi su prove oggettive concrete e che non sia stata fatta diciamo un avviato un discorso di indagine solo per un fattore di ipotesi come si ipotizza in queste ultime ore dell'entrata dell'arabia saudita di un colosso praticamente il paese più ricco del mondo all'interno del milano e allora per questo motivo si presuppone non sono parole di Salvini ma si presuppone che tutto sia stato avviato anche per avere la certezza di chi è realmente proprietario del milano però oggi con Salvini lo ripeto sono d'accordo per la prima volta e forse magari solo questa volta per queste due affermazioni per cui da questo punto di vista bisogna dargliene atto poi passiamo ad altri argomenti che ruotano dentro la nostra mina poi parliamo dei protagonisti di questo video cioè di teo hernandez e di slatan ibrahimovic dicendo che io oggi sono completamente solidale e ne farò parte di questa cosa ne farò parte con la curva sud che finalmente ha preso posizione per aiutare i poveri palestinesi di gaza per inviare per inviare generi di ogni necessità ai poveri palestinesi di gaza brava brava curva sud finalmente una posizione ben chiara tra altre cose io devo dire la verità non sono d'accordo su quello che è successo nella fattispecie però c'era anche la tifoseria della fiorentina che ha preso una certa posizione confronti palestinesi poi trasceso in tutto un discorso contro il giocatore maccaibi haifa vabbè lasciamo perdere tutte queste cose per cui oggi sono contento di questa cosa della curva sud poi altre due notizie importanti una vabbè calulu ce lo scordiamo per un mese e mezzo distrazione al legamento del ginocchio per cui calulu stagione praticamente già chiusa calulu praticamente questa stagione non l'ha mai vista io non è perché voglio male a calulu però abbiamo già capito l'integrità fisica di calulu qual è purtroppo pierre hai questo problema qualcuno lo vorrà venire a prendere prendetelo pure io non è per cacciarlo via pierre se tu dovesse vedere sto video visto che lui ha visto un mio video tempo fa ma non è per cacciarti via ma pierre mannaggia mannaggia a te mannaggia la tua integrità fisica l'ho già detto e poi oggi si viene a sapere che magnana non è niente di grave dopo la spaccata che ha fatto ieri contro il verona per dover difendere la nostra porta però de champ e qui ritorno al discorso che avevo fatto tempo fa allora lui ha preso quella botta o ha lasciato quel gambone contro lo slavia praga ha fatto la spaccata ieri de champ ha detto che la nazionale francese valuterà se convocarlo per le amichevoli allora in questo punto spero che non lo convocheranno le amichevoli perché penso che dopo due avvenimenti del genere va bene la spaccata di ieri è stata fortuita ma quella del gambone lasciato contro giocatore roslavia praga mi sa di un po congettura strategia sana strategia vedremo va andrà a finire però cosa cavolo va a giocare ste cavolo ma ha in un certo senso ragione che a mannaggia però ve l'ho spiegato anche a voi non lo può dire a de champi non voglio venire a giocare quindi devo concentrare su questa parte finale con il mira questa parte finale che ci può portare tranquillamente al secondo posto manca ancora lo scontro diretto manca ancora lo scontro diretto contro l'inter insomma contro le squadre comunque di serie a che non sono attrezzate come noi che non hanno il tasso tecnico come noi ce la stiamo facendo perché abbiamo sicuramente in questo momento più brillantezza fisica e qui veniamo a proposito io devo fare un applauso a davide calabria che ieri è stato eccezionale davide calabria ieri ha interpretato il suo ruolo in una maniera magnifica da centrocampista aggiunto ha smistato una marea di palloni si è dimostrato davide calabria un'intelligenza pazzesca io sono contento per davide calabria so che da cui di voi non sta non piace davide calabria a fare i vostri non c'è nessun problema io dico sempre le cose come stanno e questo va detto però adesso parliamo dei protagonisti di questo video allora praticamente oggi si viene a sapere che il milan vuole a tutti i costi rinnovare teo ornandez teo ornandez ha nell'obiettivo essere il più forte terzino al mondo hanno l'obiettivo anche di superare i risultati che ha fatto paolo maldini con il nostro milan però ovviamente teo ornandez essendo riconosciuto come uno dei più forti al mondo sul ruolo di terzino sinistro praticamente teo non gli bastano i 4 milioni più 500 mila euro di bonus e ragazzi questa è la verità un giocatore forte deve essere apprezzato anche a livello valutario ma secondo me è giusto e il milan e cardinale sarà deve ficcare nella testa questa storia sarà devono ficcare nella testa non dico che uno lo devono pagare 12 milioni di euro netti però comunque qualcosa in più è giusto però per rinnovarlo appunto il milan vuole rinnovare i tuoi costi ma sa già che deve mettere sul piatto qualcosa in più giusto e fin qui ci siamo e allora per frenare tutti gli eventuali futuri compratori valuta teo ornandez 100 milioni di euro cosa potrebbe succedere questa estate che il milan potrebbe avere il naso bagnato da una parte e dall'altra incassare forte metti caso che arriva qualcuno che ci vuole versare 100 milioni di euro per il cartellino di teo ornandez cosa succederà dopo cosa succederà dopo oggi c'è stato un articolo intelligente uno dei pochi che ultimamente leggo perché si tengo le riconto sulle dita sulle dita delle mie mani perché sono pochi gli articoli intelligenti che leggo mi spiace dirlo a livello giornalistico è così quello che penso realmente dove si fa un'analisi in questo articolo giornalistico sportivo che forse è meglio cedere mike magnan di teo ornandez io l'ho sempre detto non è da oggi è da mesi da un anno che lo dico e passa mike magnan ultimamente così com sa è un discorso matteo ornandez è il motore del milan punto e a capo su questo non ci sono dubbi questi qui avranno visto il mio video forse lo sarà ma comunque anch'io sposo la causa che è meglio tenersi teo ornandez e vendere magnan punto e capo questa è la verità questa è la verità i 100 milioni di euro posso scoraggiare qualcuno non lo so secondo me qualcuno che gli spende questi soldi lo troviamo ragazzi vedremo come andrà a finire questo punto di vista ma adesso vi faccio un appello lo avete forse qualcuno di voi letto nella sezione community vai nella sezione community vai alla home page clicca community e leggi l'ultimo post che ho messo allora voi mi dovete fare sto benedetto favore e forse non lo volete fare per voi cioè per per me scusate fatelo per voi se avete la dignità di essere dei veri tifosi milanisti perché qui è una questione di dignità di muovere il ditino e di fare una fatica che costa praticamente tre minuti di tempo va nella pagina instagram di slatan ibraimovic perché più che facebook è meglio instagram sotto l'ultimo post l'ultimo post inteso come primo post non quello dei piedi che lui è lasciato come un post bloccato per la fine della sua carriera come giocatore di calcio quello che c'è dopo che è praticamente l'ultimo ma il primo in tutti i post che vedi il primo quello dei piedi quello attaccato vai a scrivere sotto per favore ibra noi vogliamo in panchina ha scritto a carattere cubitali antonio conte perché vi faccio questo appello e perché l'ho messo la sezione community se poi tu non lo vuoi fare vuol dire che sei un mezzo milanista te lo dico io non faccio come fa longoni di milanello che ha fatto un ragionamento che sta con un piede in due scarpe lui col suo microfono libero tranquillo lavora per calciomercato.com lavora per questo la voce del popolo milanista la voce del popolo milanista sì con le sue idee come giusto che sia però ha detto una cosa una cosa perché mi è stata segnalata da uno di voi io ti ringrazio che era un nico ha detto una cosa che è un piede in due scarpe ah no questo è successo ieri domenica domenica 7 marzo ah no perché me l'ha segnalato uno di voi io non dico a voi dice longoni dice longoni milanello io non dico a voi cosa dovete pensare se vi piace di più pioli o conte o altri allenatori non ve lo dico io non voglio imporvelo a voi però dico che secondo me il ciclo di pioli è chiuso ma che razza di ragionamento è questo o dici una cosa o è bianco o è nero ma peggio ancora nel panorama degli informatori di milan che sembrano tutti dei grandi professoroni sicuramente anch'io anzi io mi ci metto in prima linea io a volte mi sento veramente un professorone però prima di tutto la forza me la date voi me la date voi che apprezzate il mio lavoro i miei ragionamenti ma seconda cosa io a volte penso di essere il più pragmatico il più sputa sincerità possibile che esista tanto è vero lo si vede anche nei commenti sotto i miei video che ci sono anche qualcuno sprezzante a questo a cui sto letteralmente sulle palle per quello che io sputo dalla mia bocca ma d'altronde si sa la verità fa male lo sai no la verità fa male bene allora quello che mi ha disgustato più di tutti ieri invece questo ieri sera questo non me l'ha segnalato nessuno l'ho visto io perché ho fatto zapping vado a beccare pressing su italia 1 voi lo sapete che pressing su italia 1 dura fino alle due di notte una roba allucinante come al solito in pianta stabile come ospite penso pagato perché penso che sia normale questa cosa se tu vai in tv la tv nazionale come mediaset c'era carlo pelle gatti con tutti gli altri ospiti carlo pelle gatti una penna eminente lo ripeto benesima ma poi non devo fare la presentazione carlo pelle gatti lo conosciamo tutti dai parla di minano vita e lui ha a cuore il minano io questo non l'ho mai negato però io quello che vado in contrapposizione alle sue idee ma perché io come tifoso prima di tutto e come persona pensante che fa ragionamento logico il diritto di dirlo carlo pelle gatti e vi ha detto testuali parole a pressing anche se il popolo del pioli hashtag pioli auto è molto numeroso sapete non lo so io non ho saputo di altre cose che avverranno ma tutto verrà deciso molto probabilmente a fine aprile a maggio allora caro pelle gatti io ti dico caro carlo pelle gatti io ti dico una cosa anzi salutami il tuo cavallo se ce l'hai ancora i tuoi cavalli se ce l'hai ancora io sono contento di aver avuto di aver ammirato in passato un giornalista come te non che adesso non ti ammiri però diciamo da un certo punto di vista mi sei un pochettino tracollato negli ultimi tempi perché questo discorso che tu hai fatto a pressing è un discorso un po la longoni dove c'è praticamente sempre una via di mezzo senza prendere una posizione longoni tu carlo pelle gatti e tanti altri avete un modo di fare politico cosa vuol dire il piede in due scarpe è per non scontentare nessuno come fanno i politici durante una campagna elettorale che tra le altre cose l'italia lo sappiamo è sempre in campagna elettorale adesso giugno ci sono le europee per andare a votare per le europee e lo vediamo tutti i giorni cosa fanno i politici dicono sempre mille cose poi contraddicono puntualmente quello che dicono oppure in alcuni momenti stanno nell'equilibrio del non scontentare nessuno di fare contenti tutti ma qui noi non siamo né scemi né fessi caro caro carlo pelle gatti tu con questa affermazione che un allenatore venga deciso a fine aprile a maggio secondo le tue fonti da quello che sai tu personalmente piuttosto che è una roba che fa ridere non è vero non è vero assolutamente gli allenatori gli allenatori vengono decisi tutti a febbraio e poi a marzo si mettono delle linee ben precise e poi dopo più tardi alla fine del campionato c'è la firma del contratto hai capito caro carlo pelle gatti tu per fare questa mossa per tenere tutti i contenti quelli del popolo milanista è una mossa che a me sinceramente non piace caro carlo pelle gatti per favore si un attimino un po più diciamo come come definirti più no pragmatico un po più sincero un pochettino di più non troppo politicante per favore perché questa cosa instilla nelle menti dei tifosi milanisti milanisti strane idee tu come colui che ho menzionato prima come tanti altri youtuber o giornalisti che parlano di milan uno di questi ravezzani uno di questi ravezzani un altro un disastro di logica e no però pioli è comunque non si può giudicare il lavoro di pioli perché non ha avuto una rosa adeguata ravezzani oggi ha detto la rosa del milan è quella dell'europa per giocare in europa league vero da un certo punto di vista per cui secondo ravezzani il pioli di turno deve rimanere fino a una scadenza naturale tutti questi giornalisti longoni ravezzani carlo pelegati tutto quanto mettono tutti a voi idee strane vedrete che voi se dovesse rimanere pioli starete tutti tranquilli perché tanto questi ve l'hanno messo nelle vostre nei vostri cervelli che devi stare tranquillo e l'informazione di oggi l'informazione di oggi è questa a livello globale sia di informazione di attualità news dal mondo o sportivo è questa c'è una idea di pensiero unico in cui tutti si devono uniformare perché questi che danno un'idea di pensiero unico per le gatti compagnia bella ravezzani tutto il resto devono tutti poter lavorare non si devono mettere in contrapposizione al sistema perché se no il sistema li può schiacciare e allora da qui viene un ragionamento con un pensiero unico bene io del pensiero unico me ne frego le palle allora io vi dico sempre una cosa e io difatti sono sempre stato di parte ed è proprio per questo motivo che c'è gente appunto vanno da pelle gatti vanno da questo vanno da quell'altro perché loro devono seguire gli altri che sono più super parti se io invece dico me ne frego le palle pioli auto tutta la vita questo deve sgommare se tu sei un vero milanista vai a scrivere sto cavolo di messaggio a slata in braviamoci slata noi vogliamo in panchina Antonio Conte forza mina sempre comunque ovunque ciao